Buongiorno e bentornati in Autosmile. Oggi vi presentiamo questa vettura usata, è una vettura usata aziendale, è una Toyota iGo Connect, allestimento X-Play, 5 porte, del maggio del 2021, ovviamente unico proprietario perché essendo una vettura aziendale, a 40.700 km, è una full optional, adesso andremo a presentarvela ed è un'ottima occasione perché ha un prezzo incredibilmente interessante tenendo presente la qualità, le condizioni, l'anno della vettura. Come sempre cerchiamo dalle nostre immagini, fotografie e video di trasmettervi la qualità delle vetture che selezioniamo per voi. Ma come sempre vi diciamo non fidatevi di noi, ci chiamate così sarete certi che la vettura sia ancora disponibile qui nella nostra sede di Secuignago e venite a vederla, a vederla e provarla con mano. Anzi, su strada, scusatemi, toccar con mano e provarla su strada, saremo sempre disponibili. Ma prima ovviamente contattarci così sarete certi che sia ancora disponibile perché magari è già venduta visto che ha delle condizioni veramente eccellenti. La vettura è del maggio del 2021, perciò molto recente e ha la garanzia estendibile fino a 4 anni. Bagagliaio più che sufficiente per la capienza del veicolo, questi dei posteriori sdoppiabili. E poi andiamo all'interno, in questo divanetto che sembra piccolo, posteriore, due persone, statura anche medio, medio alta. Si stanno comode perché vedete lo spazio per le gambe è più che sufficiente. Molto belli anche i gusci pieni dei sedili anteriori. E adesso andiamo al posto di guida e passeggero. Guardate i sedili come sono tenuti. Ma a voi domande. Plancia tipica di questa piccola giapponese, di questa Toyota Ego, del maggio del 2021. È un 1.000 benzina, 72 cavalli. Cambio 5 marce. Ovviamente anche questa vettura rientra nella garanzia usato di Autosmile, selezione, con chiave, doppia chiave e tutti i manuali, uso e manutenzione. Sedile regolabile in altezza. Guardate come sono tenuti i sedili. Vetri elettrici. Cruise control, con questo manettino qua. Comandi al volante e volante in pelle. Con i comandi al volante, dell'autoradio e del viva voce bluetooth. Adesso giriamo il quadro. Autoradio DAB, oltre che FM. Stare seduti qua, veramente, fa assaporare di bei viaggettini con i nostri amici e anche gite in città. È un bel prodotto, ma Toyota Ego ormai è un'affermazione. Climatizzatore. Tutta questa è la parte del climatizzatore. Specchietti regolabili elettricamente. L'ESP. E sistema anticollisione. Questa vettura è anche dotata del lane assist. E poi questo motore, questo piccolo motore a 1.072 cavalli, già omologato con tutte le normative vigenti per poter circolare praticamente ovunque. E' molto interessante perché è molto economico, parsimonioso nei consumi ed economico anche come assicurazione e bollo. Riassumendo, questa Toyota Ego in garanzia e con la possibilità del finanziamento anche con lo 0% di anticipo, comunque contattateci per sapere, oltre che sia ancora disponibile per la vendita, anche le varie condizioni della vendita stessa, è una X-Play Connect 1.072 cavalli, immatricolata a maggio del 2021. E' una vettura aziendale, unico proprietario e vi aspetta qui nella nostra sede di Secuniago in provincia di Lodi. Con lei aspettiamo anche noi voi per rispondere a tutti i vostri quesiti. Venite a provarla!